Tanta paura questa mattina per una 78enne ST le sue iniziali, residente in via San Giovanni Bosco. La signora che vive in un appartamento al terzo piano del civico 86, assieme al marito, il quale si era momentaneamente allontanato da casa per sbrigare delle faccende, si trovava sola quando improvvisamente nelle vicinanze dell'armadietto in metallo posto nel balcone, a convine con il divisore del balcone dell'altro appartamento, si è sviluppato un ingentio. Pronto l'intervento dei vigili del fuoco, accorsi sul posto con due squadre, che hanno così spento le fiamme. Resta un mistero, almeno per il momento, su cosa abbia determinato l'ingentio, visto che nell'armadietto vi erano solo delle scoppe dei detersivi, tra l'altro non infiammabile, che nelle vicinanze dello stesso non vi è la presenza di fili elettrici. I vigili del fuoco, coordinati dal caposquadra Salvatore Giammusso, escludono anche che le fiamme possano essersi sviluppate dalla parabolica installata sul balcone. Tra le ipotesi più plausibili sulla causa dell'incendio, una cicca di sigaretta è arrivata sul balcone, dove si trovavano anche dei sacchetti in plastica che probabilmente hanno alimentato le fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti della sezione volante, oltre che i soccorritori del 118, che hanno prestato i primi soccorsi all'anziana donna, che a seguito dell'allarme lanciato dai vicini ha provato ad aprire l'armadietto, ustionandosi leggermente una mano e arrossandosi il viso. Fortunatamente nulla di grave per la donna, la quale si è molto impaurita per l'incendio, che ha danneggiato solo il prospetto esterno del suo piano.